Un pomeriggio all'insegna del grande cinema internazionale, quello di oggi, domenica 8 maggio, agli internazionali BNL d'Italia a Roma. O nell'ambito delle iniziative del distretto turistico Antichi Mestieri, Sapori e Tradizioni Popolari di Sicilia, si è respirata un'atmosfera ricca di classe e glamour grazie alla presenza dell'attrice Maria Grazia Cucinotta. Insieme alla splendida attrice messinese sono intervenuti Tiziana Rocca, project manager della 62esima edizione del Taormina Film Fest 2016, che ha parlato con i cronisti delle novità del festival di quest'anno, che si svolgerà proprio a Messina dall'11 al 18 giugno, e il sindaco di Taormina, Eligio Giardina. Presidente onorario dell'edizione di quest'anno, l'attore Richard Gere. Tiziana Rocca, con la consueta eleganza e professionalità, si è soffermata in particolare sulla serata di apertura del festival, denominata Homeless Zero, in onore di Senza Tetto, che vedrà la presenza del grande attore americano e dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, John Phillips. Durante questa serata sarà data la possibilità a 300 clochard provenienti da tutta la Sicilia di salire sul palco del teatro antico, un modo per dare visibilità a tutti coloro che per scelta o necessità vengono considerati invisibili dalla società.